E temai, Gobi si muove, Castro non passa al pallone di Gobi però, 1-2 con De Guzman, si chiude il triangolo, vuole il pallone Castro, buona l'intenzione di Castro, palla dentro, è raddoppio di Pellisset, ah scusate, di Cacciatore al 95esimo, passa al Chievo, assist di Castro, gol determinante di Cacciatore. All'ultimo minuto, sull'ultima palla, ci ha creduto fino in fondo il Chievo, buco clamoroso della difesa illudinese.